Un Natale è importantissimo, importantissimo perché intanto abbiamo messo in campo tutta una serie di strumenti cambiando il paradigma con le associazioni di categorie e corpi intermedi che per noi sono fondamentali per lo sviluppo della nostra agenda politica quindi a nostro avviso la pubblica amministrazione deve fare politica insieme alla cittadinanza e deve essere sempre più attiva e quest'anno abbiamo messo insieme tutte le associazioni di categoria che ringrazio perché insieme all'amministrazione stanno provando a sanare una ferita aperta nel cuore di Palermo che è appunto quella rappresentata dall'abbandono di Piazza Lungheria e di Piazzetta Mariano Stabile che invece quest'anno avrà un ruolo centrale nello svolgimento delle attività natalizie in quanto sono state previste lì tutto quello che avveniva prima a Piazza Castelnuovo quindi ci sarà un villaggio natalizio, ci saranno diverse attività offerte dalle associazioni diversi laboratori per bambini, il villaggio alla casa di Babbo Natale quindi vogliamo provare a far tornare agli antichi fasti un luogo centrale della nostra città Perché questo spostamento da Piazza Politiama, da Piazza Castelnuovo, Piazza Ruggero VII a Piazza Lungheria? Siamo a pochi metri ma c'è stata questa novità Questo spostamento devo dire che già da qualche mese pensiamo di rivitalizzare quella zona quest'anno attraverso le indicazioni della soprintendenza che miravano a un minor sfruttamento delle piazze che fino adesso sono state oggetto di questo tipo di interventi ci ha spinto a fare ancora più velocemente Siamo in luogo per cominciare a fare le attività di sicurezza di monitoraggio per il montaggio, impianto elettrico e quant'altro Noi diciamo che accettiamo ben volentieri la rivalutazione dei portici via meno stabile come diceva l'assessore monteremo nello specifico un presepe altezza umana fatto in carta pesta, fatto artigianalmente dagli artigiani e poi faremo tutte le attività ludico per i bambini saranno gli stessi artigiani che faranno questo tipo di attività per i ragazzi e per i bambini Noi accettiamo ben volentieri questa sfida che finalmente possiamo rivalutare Piazza Lungheria con le associazioni di categoria Grazie 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 Grazie